Buongiorno amici e amiche di FC Inter News, campioni e campionessi d'Italia, ben ritrovati, diamo il via ad una nuova settimana, lo facciamo insieme al nostro Alessandro Cavasini, ben ritrovato Alessandro. Ciao, ciao Raffaele, buongiorno a tutti. Ci sono tante cose Alessandro di cui eh parlare, oggi è in programma anche Croazia Italia, match decisivo per il cammino eh degli azzurri di Luciano Spalletti eh l'Italia che con due risultati su tre Alessandro eh no si qualifica come seconda nel girone basterà non perdere contro la eh Croazia ma anche in caso di sconfitta potrebbe eh passare il turno eh tra tra le migliori terze del di Euro duemilaventiquattro però è chiaro che poi si andrà a completare il tabellone se l'Italia non perderà contro la Croazia giocherà sabato sera l'ottavo di finale contro la Svizzera di Sommer che ieri si è qualificata seconda alle spalle della Germania all'ultimo no nel nel recupero la Germania è riuscita a eh salvare il primo posto del del girone con Fulclu a novantunesimo eh altrimenti sarebbe ci potrebbe essere diciamo si era creata no la possibilità di un'Italia Germania agli ottavi degli europei ipotesi scongiurata ora toccherà l'Italia raggiungere la Svizzera agli ottavi degli europei chiaramente eh commenteremo questo pomeriggio alle ore diciannove l'attesa della della partita anche con le ultime di eh formazioni ma Alessandro dobbiamo assolutamente parlare del caso metto tra virgolette ovviamente ma era anche provocatoria Ciananolu cosa è successo venerdì sera Alessandro ed è diciamo il macro tema che ci siamo portati avanti per tutto il weekend la notizia la notizia che questa è la notizia è che il Bayern Monaco sta pensando ad Akhan Ciananolu questa è la base di partenza e non dobbiamo nasconderci è l'effettiva realtà quindi il Bayern Monaco sta valutando un colpo a centrocampo e tra i profili c'è anche quello del centrocampista turco ehm Alessandro entriamo nel dettaglio no delle della dei rumors di mercato perché ad oggi non è ancora pervenuto un'offerta no alla dirigenza dell'Inter potrebbe arrivare nelle prossime ore nei prossimi giorni però c'è anche da registrare un'apertura definiamola così no da parte di Ciananolu che comunque starebbe valutando anche l'ipotesi no del di trasferirsi al Bayern Monaco seppure no all'Inter sta eh benissimo ehm è chiaro che dobbiamo ricordare Ciananolu arriva in Italia dalla Bundesliga col passato no al Bayern Leverkusen eh ed è chiaro che l'Inter Alessandro eh si trova sempre no ogni sessione di mercato ogni estate davanti a un bivio cedere i suoi prezzi pregiati davanti ad offerte che devono essere irrinunciabili però questo va assolutamente assodato dall'altra parte non capire se si possono trattenere i calciatori è un discorso Alessandro molto diverso da quello di Lautaro Martinez perché Ciananolu ha rinnovato pochi mesi fa e ci sarebbero in queste in questa trattativa anche la pretesa di Ciananolu di allungare ulteriormente il contratto in caso di permanenza all'Inter. Tu che idea ti sei fatto intorno a tutta questa vicenda e cosa ne pensi di questa situazione? No allora hai innanzitutto hai eh riassunto perfettamente tu quella che è la che è la situazione da quello che so io in realtà eh ci sono delle differenze no? Ad esempio ho anche stamattina ho letto di un Inter irritata di un Inter che non sapeva nulla ed è venuto a sapere per vie traverse del fatto della trattativa tra eh tra la gente Stipic di di Ciananolu appunto e il Bayern Monaco eh in realtà a me non risulta questo a me risulta che eh l'offerta del Bayern diciamo l'avvio dei contatti tra il Bayern Monaco e l'entourage del del centrocampista turco risalga a un paio di mesi fa e la prima cosa che ha fatto Ciananolu è stata quella di informare l'Inter nella persona di Piero Osilio quindi l'Inter è due mesi che sa dell'interesse forte del Bayern Monaco voi ragazzi ma figuratevi se tra Inter e Bayern Monaco si vanno a fare i dispetti se il Bayern Monaco contatta eh Ciananolu dopo tutto quello che che è stato fatto negli ultimi anni a livello di trattative Perisic eh Pavare eccetera eccetera contatta Ciananolu senza dire nulla insomma senza dire nulla all'Inter figuratevi se può essere verosimile a un euro belgine quindi questa narrazione che dice l'Inter incazzata con Ciananolu Ciananolu come Lukaku eccetera da quello che risulta a me poi per carità ragazzi ognuno ha le sue fonti io do per certo quello che vi sto raccontando non è andata così la prima cosa che Ciala ha fatto è stata avvisare l'Inter nella persona del DS e quindi l'Inter sa tutto sono due mesi che lavora l'eventuale sostituto perché perché Ciananolu ha detto una cosa molto molto semplice ha detto questa è l'offerta del Bayern Monaco io a Milano resto non volentieri di più però chiaramente decidete voi è chiaro che nel caso non è che mi state vendendo al baracca luco con tutto il rispetto vado al Bayern Monaco quindi accetto e allora l'Inter ha chiesto a Ciananolu se arriva questa offerta che è congrua per noi è quella famosa di 70 milioni secondo noi puoi partire e ce l'ha detto obbedisco non ho invece evidenze sull'eventuale ricatto tra virgolette di Ciananolu in nel senso il Bayern mi ha affetto 8 milioni io resto se anche voi mi offrite lo stesso ingaggio e allungo fino al 2028 perché vi ricordo che Ciananolu ha rinnovato con l'Inter non più tardi di un anno fa fino al 2027 a 6.5 milioni netti all'anno a me non risulta questa richiesta oltre Ciananolu semplicemente ha detto io resto volentieri se poi volete vendermi comunque tra virgolette cado in piedi perché va dal Bayern Monaco quindi la palla è totalmente tra i piedi di Marotta e Ausilio che se la rimpallano e in attesa della famigerata offerta del Bayern Monaco che effettivamente non è ancora pervenuta ma noi lo sappiamo come funziona sul mercato dal momento in cui viene formulata l'offerta ufficiale praticamente il penultimo step prima della chiusura quindi non dobbiamo aspettarci non dobbiamo stupirci che adesso non sia ancora arrivata l'offerta la sta preparando il Bayern vedremo che tipo di offerta sarà la differenza con gli anni precedenti e chiudo è questa che sceglie l'Inter se l'Inter decide di vendere Ciala lo vende e nel frattempo in questi due mesi immagino io ha lavorato un'alternativa più che credibile altrimenti rimane Alessandro ora entriamo un po' anche nel taglio tecnico perché eh al netto del fatto che dobbiamo eh ricordare come Ciala non è l'obiettivo diciamo non è l'obiettivo primario unico del Bayern Monaco che sta lavorando anche su altri profili quindi è chiaro che la candidatura di Ciala va monitorata perché poi magari non so il Bayern Monaco trova l'accordo per gli altri candidati e magari poi decide di mollare la pista la pista Ciala eh ed è chiaro che il discorso di Alessandro è perfetto non dobbiamo neppure io che lo permetti fosse in dirista sia abbastanza preparato a queste a queste eventualità ora ti faccio questa domanda ovviamente la rivolgo anche a coloro che seguiranno il video e che sicuramente no si saranno anche confrontati in questi due e tre giorni di fuoco cedere Ciala Noru oggi 30 anni prossimo ai 31 in questo periodo storico con questa importanza che ha Ciala nello scacchiere tattico dell'Inter no? Il 3-5-2 di Zaghi Ciala è diventato il cuore e il cervello e il merito va dato soprattutto in Zaghi che ha visto in Ciala quelle potenzialità quando decide di dire alla dirigenza va bene cediamo Brozovic tanto Ciala e Aslani rampa di lancio no per il futuro in quella posizione lì Ciala può fare quel ruolo lì forse nemmeno Ciala era diciamo poteva pensare di diventare già oggi del 2024 il 24 giugno uno dei migliori registri al mondo perché quando Ciala fa quell'intervista no post intercity molti lo prendono in giro poi nella stagione che è appena passata no tutti siamo siamo stati veramente siamo rimasti veramente stupiti dal rendimento del turco 70 milioni di euro Alessandro scendiamo anche di 10 facciamo 60 milioni di euro no se in qualche modo l'Inter dovesse accettare quella che l'offerta del Bayern Monaco è giusto cedere oggi 60 milioni di euro Cialanolo secondo quella che è la situazione dell'Inter oggi secondo quella che è l'età na grafica del calciatore però allo stesso tempo anche l'importanza di Ciala nell'ecosistema inzaghiano allora tendenzialmente io ti direi di sì e ti dico di sì è chiaro che poi questa risposta è legata all'alternativa eventuale e qui si apre tutto un mondo perché se l'alternativa è come sto leggendo si fanno i nomi di Hulmand si fa il nome di Scouten resto perplesso e quindi allora in quel caso ti dico no perché magari i soldi che non incassi con la cessione di Cialanolo però li guadagni con i risultati sportivi che sono anche forieri di incassi e ricavi lo sappiamo no soprattutto noi dell'Inter mettiamoci dentro anche io e te abbiamo imparato la lezione no di quanto possano incidere anche sull'aspetto dei benefit economici i risultati di campo se le alternative sono Coppemainers con caratteristiche differenti Ederson con caratteristiche differenti che è Frenturam con caratteristiche differenti insomma ci siamo capiti livello comunque alto allora il mio sì è corroborato anche da da approfondimenti tattici che secondo me avendo tutto il tempo del mondo visto che rivedo da quello che so io è due mesi che questa situazione è nota all'Inter credo e sappiamo come lavorano Marotta e soprattutto Ausilio in questi termini credo che l'alternativa dovesse essere Ceduto Sociala sia un'alternativa sarebbe un'alternativa di di primissimo livello sul quale poi Inzaghi lo sappiamo va a incidere con il lavoro e quindi quando mi si dice però Ederson non è quel ruolo però Coppemainers te lo perdi davanti però qui però lì va bene tutto ma Cianolu non doveva essere il post Brozovic e doveva essere il post Eriksen tanto per restare la sicurezza si chiama Simone Inzaghi e quindi nel caso qualsiasi qualsiasi decisione verrà presa dobbiamo fidarci della dirigenza che ha dimostrato di saper scegliere gli uomini giusti e poi Inzaghi di lavorarci perché in fine conti questo poi no è stato quello che è successo con con Brozovic con Ciala io mi ricordo quando l'Inter cede Brozovic c'è un'estate fa e tutti qui eravamo disperati perché pensavamo che non si potesse più giocare a calcio senza senza Brozovic noi assolutamente non stiamo mettendo in discussione l'importanza di Ciala oggi attenzione noi stiamo facendo considerazioni qualora l'Inter dovesse veramente vedere davanti a sé un'offerta di 60 70 milioni di euro in quel caso l'Inter per un giocatore che va verso i 31 anni sa che magari questa sessione qui è il massimo no per incassare da quel giocatore lì preso a parametro zero quindi ovviamente sono discorsi che dal punto di vista economico economico ma assolutamente fatti però se devo essere sincero studiando anche un'occhiata un po' i social anche nelle grafiche che lanciamo davanti a una certa cifra gran parte del tifo nero azzurro si arrende ci alza le mani dice è giusto venderlo a quelle cifre a quelle cifre lì è chiaro che poi va reinvestito io non so se poi perché io poi sto leggendo veramente di tutto sto leggendo anche l'ho di un barella rivisitato versione play lasciamo ricordo dov'è perché ricordo dell'Inter è veramente e lo stiamo vedendo anche in ottica nazionale come un po' mi è limitato nella funzione play poi attenzione arriva Zierinski non so se magari in Zagli si mette qualcosa con Zierinski c'è Frattesi che chiede di giocare ancora di più quindi sono tutti discorsi il centro capo dell'Inter è veramente affollato e sinceramente io devo essere sincero ho visto anche un Aslani che magari non è pronto oggi no per essere subito l'erede di Ciala però vi sto vedendo un Aslani veramente in grande crescita eh all'Europeo ha fatto una partita strepitosa contro la Croazia e contro il centro campo della Croazia che sicuramente non è l'ultimo l'ultimo in giro per l'Europa anche se a fine ciclo magari per qualcuno e quindi sono tutte situazioni da da valutare è chiaro che dobbiamo continuare a monitorare Alessandro questa questa trattativa perché potrebbe entrare poco nel vivo anche nelle prossime ore domanda finale Alessandro domanda finalissima ma l'Inter secondo te sta aspettando l'evoluzione di questa trattativa per capire se con quei soldini oltre al sostituto di Ciala può tornare su Bento può mettere da parte qualcosa di ampio e che quello che ripetiamo noi sempre qui è il calcio mercato in continua evoluzione non bisogna andare nulla per scontato cioè magari ecco rapporti questa anche una una frenata sul sul sull'asse Genoa per per Martinez magari l'Inter dice 60 milioni 70 milioni a Bento forse ci posso arrivare beh è verosimile anche perché da quello che so io quello che piace veramente Enzaghi del genere è Gudmundson e a Enzaghi piace tantissimo Bento e la cosa è reciproca come abbiamo sempre detto quindi non è escluso che che ci sia tutta una preparazione no come sul risico come sul tabellone di risico stai muovendo le le i carri armatini e poi il momento giusto la passata è stata eh la passata è stata così ma è sempre così poi magari noi sappiamo alcune cose molto parziali e non riusciamo a guardare nel nel disegno nel suo insieme per fortuna aggiungo i dirigenti dell'Inter invece hanno il quadro completo e sanno bene dove andare a mettere le mani se c'è un club che in questi anni ci ha insegnato come gestire anche eventuali partenze all'Inter quindi credo che il diposo possa stare tranquillo ora anche il presidente perché è stato lui il primis ad occuparsi delle questioni di mercato ed è comunque un bel banco di prova comunque per Oktri che alla fine ripeto Oktri è arrivata e ha dato onore di guida che non essesse Zang quindi la situazione sarebbe stata assolutamente identica mi sorrido un po' perché magari non lo so se ci fosse stato ancora Zang secondo me sarebbe stato ecco criticato da quel punto di vista eh ora invece c'è Oktri però è chiaro che ogni tifoso la pensa come vuole ripetiamo però ad oggi non è ancora arrivato un offerto ufficiale però l'interesse è reciproco Ciala andrebbe al Bayern Monaco comunque parliamo del Bayern Monaco eh noi stiamo parlando eh dell'ultima dell'ultima squadra al mondo però l'Inter ovviamente ha il coltello dalla parte del manico e deciderà l'Inter quanto incassare e se ovviamente lasciare Ciala. Alessandro noi ci rivediamo domani mattina? Ci rivediamo domani mattina? Sì sì. Chissà con quali novità eh speriamo di avere un tasto nel pass per gli ottavi di finale degli europei quindi ci rivediamo domani anche per commentare la partita nazionale. Assolutamente sì. Nei commenti diteci voi cosa ne pensate di queste voci intorno a Ciala diteci eh qual è la vostra idea a riguardo qual è il prezzo minimo giusto secondo voi per farlo partire noi ci vediamo questo pomeriggio le diciannove per continuare a parlare ovviamente di mercato per vivere insieme l'attesa di Croazia Italia non mi resta che lasciarvi comunque rosissimo sempre forza l'interno. Grazie.